Questo servizio è dedicato ad uno dei più grandi artisti della musica rock mondiale. Ricordatevi questa data, 27 agosto 2019. Super Trent, 40 anni di breakfast in America, il capolavoro. E adesso ricordatevi questi numeri. Breakfast in America, oltre 4 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti d'America. Breakfast in America, quasi 20 milioni di copie vendute in 4 decenni e 2 Grammy nel 1980. 2019 è anche l'anno del cinquantesimo anniversario del gruppo che si chiamava, in origine, Death. When We Were Kids, il porto ad Alasio Super Champs e Roger Johnson nel quarantennale di breakfast in America. Era un'occasione che Alasio non poteva perdere e che faremo di tutto per elevarla alla massima potenza. Sarà memorabile, indimenticabile questo evento perché dobbiamo ricordare che abbiamo uno dei leggendi della storia della musica rock qui ad Alasio durante un suo tour mondiale, perciò lui che fa con questo tour, porta Alasio in tutto il mondo. Come è stato il tuo impatto con Alasio? Oh, è stato come entrare in un'atmosfera di amore e di amicizia e era ammutolito, era sorpresissimo da ciò che vedeva. Io voglio chiedere a Roger se ancora lui è sorpresa dopo 40 anni quando gira il mondo e queste canzoni fanno muovere e commuovere le persone. Sì, sono sorpreso e molto orgoglioso. È meraviglioso per me di cantare canzoni che guardo e le persone stanno riuscendo, stanno riuscendo, stanno riuscendo. Quando i nostri pensi sono abbonati, per me è il più grande dono che posso dargli. Ha detto, sì, sono ancora emozionato quando suona sul palco e guardo la faccia della gente che sorridono, che piangono, che ballano con la mia musica, è musica del mio cuore e per me è questo il più grande dono. Grazie molto Roger. Grazie. Ha assistito a uno dei più grandi concerti internazionali. Lui è veramente il numero uno. Well, thank you. It's wonderful to be here. Hello to TG Events and Alassio. This is such a beautiful part of the world. I'm so happy to be here. Nick, è stata una grande notte. Assolutamente. Però anche come ha detto lui, è felicissimo di essere qua ad Alassio. È stata una notte fantastica anche per noi. È sempre bello arrivare qua e portare queste grandi artiste unici proprio qua ad Alassio. Nice one. Che posso dire? Thank you. Grazie.